Il 25esimo della ripresa con il Parma in vantaggio sul Torino, per 2-1 il Torino fericoloso qualche istante fa ed è andato vicino al pareggio. Prima con Meggiorini, liberato benissimo da uno schiama su calcio di posizione da Farnerud, è stato bravo, il portiere Mirante a chiudere con il trappo, ma a Mauri, area di rigore, a Mauri, a Mauri si gira a sinistra, avete! 3-1 del Parma, e la spazza, Mauri, ha avvicinato il suo primo gol, la spazza finale, ed è un po' la spazza di testa nera per il Torino, lui, che decide la fila dei partiti, dello short plan, con il Parma sotto di un gol, e faccio il spazzo, no, con una tripleta, sinistro, che ha abbassuto il portiere Paderio, la spalla da forza, ha riuscito a girarsi, con il sinistro, non ha colpito benissimo, la calore è terminato, insomma la rete, è un inventamento, un'altra becca, perché il potere Paderio, dopo lo scledito del risultato del centro, alla fine del suo tempo, aiutati in Parma, ci portano a scena, 3-1, frigo, gol di Mauri, siamo al 26esimo della ripresa, Parma 3, Torino 1 in a Genova.